Comiscia, continua un'avventura sempre in Serie D, cambiano scuola rimanendo in Abruzzo. Annotaresco, che cosa si aspetta da quest'anno? Intanto ringrazio il Presidente che ha mandato questa grande opportunità e il Direttore Generale Alfredo Natali che appena si è insediato e c'è stato l'allontanamento, non l'allontanamento, è andato via De Angelis che è andato a Campobasso che tra l'altro ha fatto anche un ottimo lavoro. Sono stato chiamato, non ci ho pensato un attimo, avevo anche altre situazioni però sinceramente questa era quella più affascinante e stimolante. In panchina ci sarà Roberto Vagnoni, un allenatore che fa del gioco ma anche e soprattutto della grinta e in campo un punto focale della sua esperienza. Che tipo di allenatore, che tipo di notaresco ci aspettiamo di vedere con Roberto Vagnoni? Sicuramente sarà una squadra votata al dinamismo, alla grinta e poi vorrei rivedere che giocasse come il suo Castelfidardo di due anni fa che comunque ha messo in difficoltà tante squadre. Fece un bellissimo campionato, penso sia stato due anni fa come quest'anno era stato notaresco la rivelazione del campionato. A proposito di nuovi acquisti, non ci deve presentare Pomante e Frulla, li conosciamo, però un po' di giocatori che sono arrivati, Montagnoli, Gaetani, ce li presenta? Come li hanno convinto? Montagnoli era un giocatore del mister due anni fa a Castelfidardo, poi l'ho avuto anche io quest'anno a Francavilla. Quest'anno purtroppo non ha fatto benissimo, non ha espresso quello che sinceramente io penso che lui possa dare. Gaetani è un ragazzo che i numeri parlano da solo, ha sempre fatto tanti gol, dovunque è andato, è un ragazzo che ha voglia, fame, viene qui per riconquistarsi quello che in qualche anno ha perso. Le vostre storie del notaresco e del suo Francavilla che appena lasciato un po' si somigliano perché hanno mancato il playoff proprio alla fine. L'obiettivo del notaresco sarà provare ad entrarci in quell'otto playoff? Il nostro obiettivo è quello di fare il meglio possibile, ogni anno è sempre difficile, è diverso, mi ricordo notaresco due anni fa ha fatto i playoff, a finale playoff, quest'anno invece è stato praticamente nei playoff, anche primo per tante settimane. Ogni anno è diverso, loro hanno fatto un ottimo lavoro, quindi il mio collega Stefano ha fatto un ottimo lavoro in due anni, è stato bravissimo il presidente che lo ha tenuto dopo che il primo anno non ha fatto benissimo, ma non è che non ha fatto benissimo il direttore perché poi si dà sempre colpa al direttore se la squadra non fa bene e poi se fa bene nel merito dei giocatori e di chi li ha presi, però che non è il direttore ma è il presidente che li paga. Però a parte gli scherzi, noi siamo qui per cercare di fare il meglio, darti un giudizio per come si stanno rafforzando le squadre, i gironi ancora non sono composti, non sappiamo che fine farà il Foggia, se verrà in Serie D, quindi speriamo che non ci sia un'altra sorpresa Cesena come quell'anno che è appena passato.